salve in questo video parliamo delle caratteristiche dei formati dei file di immagini digitali ci sono diversi formati fra cui scegliere e ognuno comporta vantaggi e svantaggi usare l'uno l'altro visto che non c'è uno standard riguarda la scelta fra diverse caratteristiche che fra poco elencheremo prima però volevo far notare la differenza tra formato del file o contenitore o container e rappresentazione dei dati o codec o compressione i codec che sono gli algoritmi che codifiano e decodifiano o meglio comprimano e decomprimano i dati da archiviare in un file contenitore oppure da trasmettere altrove noi non suddivideremo i due concetti e parleremo in generale di formati il guai è che per parlare appropriatamente di codec bisogna conoscerli a fondo per ognuno di essi si deve andare sul relativo sito web e scaricarsi i manuali e le specifiche tecniche che devono essere mandate a memoria ripeto se avete capito bene per ogni codec che vogliamo usare io non lo faccio come molti più peraltro e mi affido agli automatismi di senelera e ai codec più famosi ed utilizzati ma ammetto che non è un metodo intelligente infatti vi racconto cosa mi è successo volevo provare dentro se nelle raggi g il per me nuovo codec ffv1 in formato mkv ma mi dava errore e non riuscivo a fare il rendering ho scoperto che mi dava problemi il codec audio opus a cui era associato mentre altri codec audio funzionavano perfettamente potrebbe bastare così semplicemente non usare opus insieme a ffv1 ma indagando ulteriormente ho scoperto che questo codec ha problemi con campionamenti di 44 kHz campionamenti audio intendo mentre funziona benissimo a 48 kHz solo conoscendo il codec a fondo si può arrivare a capire e a rimediare al problema comunque torniamo a parlare di formati in generale una caratteristica del file video e la compatibilità fra profondità di colori diverse per vari shot con cui abbiamo a che fare oggigiorno non ci sono più problemi di compatibilità e tutti i software sono in grado di maneggiare diversi formati di file a diverse risoluzioni di colore siano esse a 8 16 32 bit non è più un problema oggigiorno stesso discorso riguarda la risoluzione spaziale software professionali specifici possono essere ancorati ad un loro formato proprietario a risoluzione bit rate prefissato ma oggigiorno la compatibilità con altri formati non è più un problema altra caratteristica dei formati e avere degli header in cui inserire i metadati e commenti vari per esempio la data di creazione del file lo spazio colore utilizzato la risoluzione eccetera un'altra caratteristica è la possibilità di aggiungere altri canali oltre ai soliti 3 rgb per esempio un canale alfa si parla allora di rgba infine una cosa che può portare a problemi sono le implementazioni specifiche che il creatore del software impone ai file anche se sono di libero uso per esempio il formato tif che è open source è spesso soggetto a personalizzazioni che diminuiscano la sua compatibilità fra un programma e l'altro parliamo ora della caratteristica più importante la compressione che riguarda sia la risoluzione spaziale che di colore che infine temporale iniziamo con la risoluzione spaziale il bisogno di guadagnare spazio porta due tipi di compressione con perdita lossi o senza perdita di dati lossless questo secondo tipo una volta decompressa riporta l'immagine alle stesse esatte condizioni iniziali non sia cioè perdita irrimediabile di informazioni ma anche la compressione con perdita di dati può essere utilizzabile anzi è quella maggiormente utilizzata in realtà anche in ambito professionale a essere sinceri sia per il grande guadagno di spazio che per le occasioni in cui i dati persi non compromettano troppo il risultato finale certo in un workflow che prevede molti salvataggi intermedi e poi rilavorazioni con sempre nuove riscritture la compressione con perdita porta rapidamente a risultati scadenti ma in altre occasioni può essere accettabile o addirittura essere l'unica possibilità a disposizione consideriamo un'immagine che sappiamo costituita da una matrice di pixel ad ogni pixel è assegnato un certo valore tre valori ma semplifichiamo se c'è un modo per raggruppare i pixel che hanno lo stesso valore in un'unica formula matematica che li descrive possiamo risparmiarci di leggere e scrivere ogni volta i valori di ogni pixel usando al loro posto le formule quando possibile si parla di analisi delle ridondanze l'algoritmo rle per esempio semplicemente conta le sequenze dello stesso valore e poi invece di memorizzare tutti i valori memorizza solo le sequenze un file così descritto avrà dimensioni ridotte rispetto all'originale ma quando decompresso riporterà esattamente alle condizioni iniziali cioè ogni pixel riavrà il suo specifico valore questo è uno sguardo davvero superficiale perché gli algoritmi usati per comprimere un file sono tanti e complessi inoltre per vari tipi di immagine un tipo di compressione sarà meglio di un altro e può addirittura succedere che certi tipi di compressione aumentino le dimensioni di particolari tipi di immagine infatti sempre parlando in generale un algoritmo che riesce a comprimere bene vaste zone di luminosità omogenea nell'immagine come rle che abbiamo visto per esempio si comporterà male in immagini con tanti dettagli fini o rumore o comunque un qualsiasi tipo di disomogeneità per compressioni lossi le possibilità e la varietà di algoritmi è ancora più varia e si riescono ad ottenere compressioni incredibili anche fino a 150 volte le dimensioni originali ma non aspettatevi una qualità finale accettabile comunque visto il rapporto di compressione può essere impostato dall'utente possiamo sempre sceglierne uno che ci soddisfi infine c'è da dire che la compressione di cui abbiamo parlato finora è detta intra frame o spaziale perché riguarda separatamente ogni singolo frame trattato come un'immagine statica una foto in pratica c'è invece anche una compressione inter frame o temporale o ancora long gop che consiste nel considerare solo una coppia di frame i frame e p frame e interpolare i frame intermedi in genere tale tipo di compressione porta rapidamente allo scadimento della qualità ma come sempre ci possono essere condizioni in cui risulta utile e accettabile della compressione della risoluzione di colore parleremo nel prossimo video il guaio è riuscire a stabilire a priori quale formato ci conviene usare quale tipo di compressione spaziale e temporale il quale tipo di profondità di colore la linea guida da seguire e preservare la qualità che ci serve nel filmato finale ma che vuol dire qualità che ci serve si può pensare di usare sempre il massimo della qualità in ogni stadio dell'editing dall'acquisizione al render finale ma questo comporta hardware adatto e tempi lunghi per poi magari fare un semplice video con destinazione youtube il problema dell'hardware non è trascurabile si potrebbe pensare che lavorare alla massima qualità comporti solo un allungamento dei tempi quindi uno si arma di pazienza ma alla fine il risultato lo tieni invece non è così se vogliamo per esempio riprendere una scena al 10 bit avremo bisogno di una videocamera che lo permetta di un programma che gli supporti ma questo oggi giorno in realtà non è un problema di un monitor capace di riprodurli sono quelli professionali e costosi fra parentesi e di una scheda video che li supporti un'anvidia da gaming non va bene serve una quadro capite di che livello di spesa e impegno stiamo parlando? altro aspetto della qualità riguarda il workflow impiegato e non solo la qualità finale del rendering infatti alcuni processi intermedi hanno bisogno di una ben determinata qualità per esempio il green screen o la correzione colore o il tracking e la stabilizzazione hanno bisogno di un filmato pulito ed omogeneo quindi oltre a partire da filmati girati con tutti gli accorgimenti necessari bisogna anche applicare un denoise e un certo blur per eliminare gli artefatti per esempio quelli derivati dalla compressione jpeg ma queste sono operazioni lente che comportano anche un'irrimediabile perdita di dati grande o modesta che sia di cui bisogna sempre tener conto anche filtri di trasformazione o di conversione fra un formato all'altro provocano sempre una piccola perdita di dati a volte anche grande per cui bisogna essere ben consci di quando applicarli per esempio partire da un filmato in bassa risoluzione e poi portarlo ad alta risoluzione non comporta un aumento della qualità perché i dati del filmato originale sono gli stessi ritroviamo nel filmato a più alta risoluzione ma ne riparleremo in dei video successivi